Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti L'Aggiunta regionale ha approvato il regolamento di attuazione della legge per la tutela dei distretti rurali e agroalimentari. Il presidente della Commissione Agricoltura, Maurizio Petracca, ha così commentato il provvedimento. Si è reso finalmente operativo uno strumento molto utile per i territori come l'Irpinia, particolarmente vocati alla ruralità. Cosa dire? È un'occasione d'oro perché Petracca si decida a lasciare il Consiglio regionale per darsi alla campagna. Ne guadagnerebbe l'agricoltura di qualità, ma soprattutto la politica. Grazie a tutti.